Salvatore Campitillo, presidente dell'Asso Stampa giornalisti Valle del Sarno, nonché membro del nazionale del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti. Andiamo con grati. Associazione giornalisti Valle del Sarno, da quanto tempo opera e soprattutto cosa fa? Allora innanzitutto è nato il 24 gennaio del 2010, 4 anni fa, ciò sta a significare, 4 anni e mezzo fa, sta a significare i giorni in cui si festeggia il nostro santo padrone che è San Francesco di Sales. Quel giorno a Nocera 80 giornalisti si sono riuniti e hanno voluto essere insieme per sviluppare un dato culturale ma nello stesso momento essere forti sul piano per dare alla comunità la migliore informazione. Una sede a Cassa e San Giorgio presso Villa Galvanese ma soprattutto praticamente in questi 4 anni che cosa ha prodotto l'Associazione? Allora ha prodotto un premio nazionale di giornalismo che è questo il 27 di ottobre, ci sarà la quarta edizione. Ha prodotto una marea di convegne, di dibattito sull'informazione perché è il metodo per migliorare questa informazione. Si evolve sempre il passo con i tempi, il web e quant'altro? Esattamente, evolve però nello stesso momento deve mettere in condizione il collega giornalista di aggiornarsi, infatti adesso abbiamo anche iniziato i corsi di aggiornamento, questi corsi di aggiornamento sono fondamentali per creare all'interno della stessa categoria la forza necessaria per migliorare perché dobbiamo stare al passo con i tempi, una categoria che non si aggiorni è una categoria scadente, invece questo dato qua mette in condizione che i giornalisti e tutti i giornalisti possono dare il meglio di sé per dare un'informazione di qualità. Mentre il Consiglio dell'Ordine come si muove? Il Consiglio dell'Ordine è il punto di riferimento nazionale ed è l'interfaccia del Governo qualsiasi cosa il Governo vuole fare nel riguardo della categoria il riferimento è il Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale infatti su sollecitazione del Governo a distanza di 50 anni finalmente abbiamo una proposta di legge da parte nostra di riforma della legge istitutiva che abbiamo festeggiato i 50 anni però è vecchiotto rispetto alle problematiche e alle tecnologie che avanzano in una maniera galoppante. Vediamo che cosa succederà tentando di ottenere sempre il meglio. Il punto di riferimento nostro è soltanto l'opinione pubblica e i cittadini che deve avere una informazione decente perché purtroppo commettiamo degli errori madornali ci sono qualche volta qualche collega. Allora prima vogliamo parlare degli errori fondamentali ma va anche detto che la categoria nel suo complesso è una categoria all'altezza del compito. È ovvio che noi dobbiamo sempre stare attenti per far sì che... Grazie a tutti.